Alexo, divano. Divano. Ma già c'è dentro i barzotti? Mamma! Ho studiato attentamente il diritto mostruoso. Vladimir è palesemente reo di abbandono della tomba coniugale. Questo matrimonio non sa da fare. Non avevamo parlato di una cerimonia privata. In passato io ero molto diversa da come mi vedi ora. Tutti cambiano, no? Ma il mio problema è più grande. Scusa, ma te te sei fatto un lifting? No! Tu hai una nuova compagna? Io ho un nuovo compagno. Nel senso che ti accompagna o... O. O? Arigato! Arigato!